Gli audio racconti, serie I tre giusti, il caso Slay di Edgar Wallace, letto da Dani. L'assassinio di Bernard Slayne era uno di quei misteri che rallegrano la stampa e preoccupano la polizia. Il signor Slayne era un ricco agente di cambio, scapolo e simpatico. Quella sera, dopo aver cenato al Paul Mall Club, prese un taxi perché la sua macchina era dal meccanico, ordinando all'autista di portarlo nel suo appartamento, nel residence di Albert Palace. Il portiere era al quinto piano quando il signor Slayne arrivò. La prima cosa strana accadde quando, scendendo nell'ingresso, il portiere trovò l'autista del taxi in anticamera e gli chiese cosa desiderasse. «Ho appena portato qui un uomo, il signor Slayne, che vive al numero sette», disse l'autista. «Non aveva moneta e così è salito a prenderla». Era molto probabile, perché Slayne viveva al primo piano e usava sempre le scale. I due, il portiere e l'autista, chiacchierarono per cinque minuti e poi il portiere decise di andare lui a prendere i soldi per pagare la corsa. L'Albert Palace Mansions era diverso da tutti gli altri residence. Al primo e più costoso piano c'era un piccolo appartamento di quattro stanze che era occupato appunto da Slayne. Da sotto la porta filtrava una luce che era rimasta accesa per tutta la sera. Il portiere suonò il campanello e aspettò. Suonò ancora. Bussò, ma senza ottenere risposta. «Deve essere andato a dormire. In che stato era?» chiese. Con questa domanda il portiere intendeva chiedere se l'agente di cambio era sobrio oppure no. Era un fatto stabilito che il signor Slayne beveva molto e più di una volta era tornato a casa in condizioni tali da rendere necessario l'intervento del portiere per essere messo a letto. Il tassista, che si chiamava Reynolds, ammise che, con ogni probabilità, Slayne era eccessivamente allegro. Il portiere tentò di nuovo di ottenere una risposta dall'appartamento numero 7, ma visto che era del tutto inutile, pagò il tassista di tasca propria. Due scellini e sei pence. L'uomo era di servizio tutta la notte e fece vari tentativi di comunicare con Slayne. Dalla sua cabina al primo piano vedeva la porta del numero 7. In seguito riferì di non aver visto l'inquilino per tutta la notte. E questi non avrebbe potuto lasciare l'edificio senza passare davanti a lui. Alle 5 e mezza della mattina seguente, un poliziotto di servizio a Green Park vide un uomo accasciato su una panchina. Indossava un abito da sera e la sua posa era così sospetta che il poliziotto attraversò il prato per raggiungere la panchina che si trovava accanto ad un cespuglio di rododendro. Quando gli fu vicino, i suoi sospetti trovarono fondamento. L'uomo era morto. Era stato orrendamente colpito con qualche corpo contundente. Dai documenti risultò essere Bernard Slayne. Accanto al luogo del delitto c'era un cancello di ferro che portava a Paul Maul e si scoprì che era stato forzato. Gli investigatori di Scotland Yard arrivarono subito sul posto. Interrogarono il portiere dell'Albert Palace Mansions e si diramò un messaggio radio chiedendo al tassista Reynolds di presentarsi a Scotland Yard. Arrivò a mezzanotte ma non riuscì a fare alcuna luce sul mistero. Reynolds era un uomo rispettabile e senza alcun precedente. Era a Vedovo e viveva sopra un garage vicino a Dorset Square, Baker Street. Un crimine piuttosto divertente. Osservò Leon Gonzalez appoggiando i gomiti sul tavolo della colazione e mettendosi la testa tra le mani. «Perché divertente?» chiese George. Leon lesse l'articolo, muovendo le labbra come al solito, come se stesse divorando le parole. Poi si appoggiò allo schienale della sedia, strofinandosi gli occhi. «È divertente porr via de quel conto d'albergo trovato nelle tasche della vittima?» Indicò con il dito il paragrafo e Manfred è preso il giornale per leggerlo. La polizia ha scoperto nella tasca destra del cappotto del morto un foglio di carta a sporco di sangue, che si è poi rivelato essere un conto d'albergo. Plage Hotel, Ostenda, 3 agosto 1921. Il conto era intestato al signor e alla signora Wilbram ed era di 7500 franchi. Manfred restituì il giornale a Leon. «E non ti sembra misterioso il fatto che quest'uomo, mezzo ubriaco, abbia lasciato il suo appartamento e sia tornato a Green Park, che è abbastanza lontano dall'Albert Palace Mansions?» Leon, che stava fissando il muro con un sguardo vuoto, scosse lentamente la testa. Poi, secondo la sua caratteristica, partì per la tangente. Questa nuova legge che proibisce la pubblicazione dei casi di divorzio è una vera seccatura. Ma se da il caso che qui la data sia il 1921 e le circostanze che accompagnavano la visita del signor e della signora Wilbram al Plage Hotel, avrebbero destato un grande scalpore se il caso fosse arrivato in tribunale. «Sospetti un omicidio per motivi di vendetta?» Leon scrollò le spalle e cambiò argomento. George Manfred era solito dire che Leon aveva la memoria più straordinaria che avesse mai riscontrato in un uomo. Infatti molto di rado aveva bisogno di consultare le voluminose raccolte di appunti e di dati che aveva raccolto durante tutta la sua vita e che rendevano in pratica inabitabile una delle stanze del loro piccolo appartamento. C'era un uomo a Scotland Yard, l'ispettore Meadows, che era intimo amico dei tre. Aveva l'abitudine di fumare la pipa, anzi molte pipe, nelle serate che trascorreva a Carson Street. Biandò anche quella sera, pieno di notizie sul caso Slane. «Slane era davvero un tipo strano», commentò. «Dalle prove che abbiamo trovato in casa sua è risultato che non sarebbe dovuto essere scapolo se circa due dozzine di donne avessero potuto far valere i loro diritti. A proposito, abbiamo rintracciato il signore e la signora Wilbram. Wilbram era naturalmente Slane. La signora invece non è così facile da trovare. Una delle sue tante donne, immagino». «E tuttavia era l'unica donna che lui voleva sposare», disse Gonzales. «E voi come lo sapete?» «Il conto dell'albergo serviva senza dubbio come prova por il marito. L'uomo, forse por dare alla moglie un'altra possibilità, o perché era cattolico, non voleva divorziare da lei». «Ma ora ditemi». «Si appoggiò al tavolo e si sporse verso l'ispettore». «Quando il taxi si è fermato davanti ad Albert Palace Mansions, Slane è sceso subito». «Io ve posso assicurare che non l'ha fatto». «Voi avete già fatto delle indagini, non è così?» «No, ha aspettato in auto». «Il tassista, che è una persona con molto tatto, ha pensato che fosse meglio trattenerlo in macchina, fino a quando la gente nella hall non fosse salita in ascensore. L'ascensore è visibile dalla porta d'ingresso». «Esatto, ma è stata un'idea del tassista o di Slane?» «Del tassista. Slane era mezzo addormentato quando l'ha fatto scendere». «Un'altra domanda. Quando il portiere ha portato quella gente al quinto piano con l'ascensore, è tornato subito giù?» L'ispettore scosse la testa. «No, è rimasto a parlare un po' con gli inquilini. Quando ha sentito chiudersi la porta di Slane, ha capito che qualcuno era entrato. Leon si appoggiò allo schienale della sedia con un sorriso deliziato sul viso. «Cosa ne pensi, Raymond?» disse rivolgendosi al malinconico Puicard. «E tu cosa ne pensi, mon ami?» Midos guardò prima Puicard e poi Gonzales. «Avete una teoria sul perché Slane sia uscito di nuovo dopo?» «Ma non è uscito di nuovo?» «Non è uscito». Risposero i due all'unisono. Midos vide gli occhi sorridenti di George Manfred. «Stanno cercando di imbrogliarvi, Midos?» «Ma ciò che hanno detto è vero. È ovvio che non si è uscito dal suo appartamento». Si alzò per stiracchiarsi. «Credo che me ne andrò a letto, ma scommetto cinquanta sterline che Leon troverà l'assassino domani, anche se non giurerei che lo consegnerà a Scotland Yard. La mattina dopo, alle otto in punto, mentre Reynolds, il tassista, con una sigaretta in bocca, stava facendo l'ispezione finale del suo taxi prima di iniziare il lavoro giornaliero, Leon Gonzales gli si avvicinò. Reynolds era un bell'uomo sui quarant'anni, tranquillo e con un modo di fare raffinato e simpatico. «Non sarete un altro poliziotto, spero?» chiese sorridendo. «Ho risposto a tante di quelle stupide domande. Questo è il vostro taxi?» chiese Leon indicando la scintillante vettura. «Sì, è il mio. Fare il tassista non è redditizio come molta gente immagina. Se poi capita di essere coinvolti in un caso come questo, i tuoi guadagni calano del 50%.» Leon gli spiegò in poche parole la sua posizione. «L'Agenzia del Triangolo! Oh sì, mi ricordo! Siete i tre giusti, vero? Buon Dio! Scotland Yard non vi avrà incaricato del caso?» «No, me occupo del caso por mio diletto. Ci sono uno o due particolari che non me convincono e mi chiedevo se voi poteste dirmi qualcosa che forse la polizia non sa.» L'uomo esitò, ma poi disse. «Salite in casa.» Lo invitò facendo strada sulle scale. «La stanza era molto ben arredata. Leon notò che c'erano un paio di pezzi antichi che dovevano avere un discreto valore. Su un tavolo al centro della stanza c'era una cappelliera di cuoio e accanto al tavolo una valigia. Il tassista notò lo sguardo interrogativo di Leon e si affrettò a spiegare. «Appartengono ad un mio cliente. Le sto portando alla stazione.» Da dove si trovava, Leon vide che erano indirizzate al deposito bagagli di Tatley. Non commentò la cosa, ma il suo senso di osservazione dovette sconcertare l'ospite, perché egli cambiò subito atteggiamento. «Vedete, signor Gonzales, io sono un uomo che lavora e quindi temo di non potervi concedere molto tempo. Cosa volevate sapere?» «Vorrei sapere se il giorno in cui avete accompagnato Slane a casa era stato un giorno particolarmente movimentato.» «È stato un giorno pieno di lavoro. Ho già dato alla polizia il resoconto delle corse di quel giorno, compresa quella all'ospedale, ma immagino che lo sappiate. Raccontatemi della corsa all'ospedale.» L'uomo esitò. «Non vorrei che voi pensaste che mi vanto per quanto ho fatto. È stato solo un gesto umanitario. Una donna era stata investita da un autobus a Baker Street. Io l'ho raccolta e l'ho portata all'ospedale.» «Era ferita in modo grave?» «È morta.» Leon lo guardò pensieroso. I suoi occhi si posarono di nuovo sulla valigia. «Grazie, signor Reynolds. Volete venire per favore a Carson Street questa sera alle nove in punto? Ecco il mio indirizzo.» «E perché mai?» «Porché voglio chiedervi qualcosa a cui sarete felice di rispondere.» La sua grossa macchina lo stava aspettando in strada. Leon vi salì e si diresse a tutta velocità verso l'ospedale di Walmer Street. Trovò non più di quanto si aspettava e tornò a Carson Street molto silenzioso e per nulla in vena di dare informazioni. Alle nove in punto di quella sera arrivò Reynolds e lui e Leon González restarono chiusi per un'ora nel piccolo soggiorno al piano terra. Per fortuna Meadows quella sera non ritene necessario passare dai tre. Arrivò una settimana più tardi con una notizia che sorprese lui soltanto. «È successa una cosa strana. Quel tassista che ha riportato Slane a casa è scomparso. Ha venduto il suo taxi e se n'è andato. Nulla lo socia al delitto, altrimenti avrei emesso un mandato di arresto contro di lui. È stato onesto fin dall'inizio.» Manfred si trovò d'accordo. Quicard fissava nel vuoto. Leon González sbadigliò, come se fosse davvero stanco di tutti quei misteri. «È molto curioso.» Osservò González dopo che Meadows se ne fu andato. Che la polizia non si sia disturbata ad investigare sulla vita di Slane quando stava a Tathley. Ha abitato lì, in una grande casa per molti anni. Se Scotland Yard avesse indagato in quella direzione, non avrebbe potuto non scoprire la storia del giovane dottor Grane e della sua bella moglie, che scappò via da lui. Lei e Slane scomparvero insieme. Naturalmente Slane era innamorato di lei ed era pronto a sposarla, ma era il tipo d'uomo che restava innamorato di qualcuno per al massimo tre mesi. E visto che non era stato possibile farsi sposare subito, la ragazza aveva ben poche possibilità di regolarizzare la propria posizione. Il dottore voleva riprendersi la moglie, ma lei rifiutò, scomparendo dalla sua vita. Allora lui rinunciò alla medicina e venne a Londra. Investì i suoi risparmi in un piccolo garage, che poco dopo fallì. Piuttosto che riprendere ad esercitare la professione medica e recuperare tutto ciò che aveva perso negli anni in cui aveva cercato di dimenticare la moglie, l'uomo decise da intraprendere la più facile delle professioni, il tassista. Conosco parecchi uomini che hanno preso esattamente la stessa decisione. Non rivide più la moglie, anche se vedeva spesso Slane. Reynolds, o Grain, come lo chiamerò, si era tagliato i baffi. Aveva alterato il proprio aspetto, tanto che Slane non lo riconobbe mai. Per Grain divenne un'ossessione seguire il suo nemico, osservare i suoi movimenti, le sue abitudini. Scoprì una di queste abitudini, che si sarebbe poi rivelata la rovina di Slane, e cioè quella di cenare ogni mercoledì sera al Paul Mall Club, e di uscirne alle undici e mezza circa. Ma questa informazione non gli serviva a nulla, e non pensò mai di utilizzarla, fino alla sera dell'omicidio. Stava guidando nel distretto di Nord-Ovest, quando vide una donna investita da un autobus. Anzi, lui stesso stava quasi per schiacciarla con la sua automobile. Fermato il taxi, balzò a terra, e con grande orrore, sollevando la donna, si trovò davanti l'emaciato viso di sua moglie. La caricò sul taxi, e a grande velocità la portò all'ospedale. Mentre erano nella sala dell'accettazione, prima dell'arrivo del medico, la donna morente gli raccontò, in poche deliranti parole, la storia della sua rovina. Morì prima che la portassero in sala operatoria, ed è stato meglio così. Io sapevo tutto ancora prima di arrivare in ospedale, dove, con poche domande, ho scoperto che uno sconosciuto aveva deciso che la donna doveva essere seppellita a Tatli, e aveva predisposto con generosità tutti i preparativi per il funerale. Me lo ero immaginato anche prima di vedere i bagagli di Grain. Comunque, Grain lasciò l'ospedale folle di rabbia. Pioveva molto forte quella sera. Si precipitò a Paul Mall, cercando di arrivare prima delle undici e mezza, ed ebbe fortuna, perché proprio in quel momento il portiere del ristorante uscì per chiamare un taxi. Dopo aver caricato Slane, si fermò nei pressi di Paul Mall, fingendo di aver forato una gomma. Aprì uno dei cancelli, e dopo aver aspettato che non passasse nessuno, trascinò l'uomo mezzo ubriaco in mezzo al parco. Ma prima che Grain terminasse il suo percorso, pare che a Slane fosse passata la sbornia. Il tassista giura di aver dato alla sua vittima una possibilità di salvarsi, ma Slane gli avrebbe puntato contro una pistola, e Grain l'avrebbe ucciso per legittima difesa. Questo può essere vero, come può non esserlo. Grain poi non si fece prendere dal panico. Tornato al suo taxi senza farsi vedere da nessuno, guidò fino ad Albert Palace Mansions, e dopo aver aspettato che l'ascensore salisse, entrò. Aveva preso il mazzo di chiavi dalla tasca di Slane, e sapeva quale porta avrebbe aperto. La sua prima intenzione era quella di frugare nell'appartamento di Slane, alla ricerca di qualcosa che lo collegasse alla moglie. Ma poi, sentendo il portiere augurare la buonanotte e scendere, sbatté la porta, e giunse nell'ingresso appena prima di lui. «Non racconteremo questa storia alla polizia, vero?» disse Manfred con gravità. Puigard, dall'altra parte del tavolo, si lasciò andare ad un sorriso. «È una storia così buona che la polizia non ci crederebbe mai!» «Gli audio racconti, serie I tre giusti, il caso Slane, di Edgar Wallace, letto da Adami». «Ruiga, che la polizia non ci crederebbe mai!» «Non ci crederebbe mai!» «Non ci crederebbe mai!» «No bargienة 마!» «Aw